Ciao! Sabato 24 agosto non perdetevi Rock & Gospel Live con i Tieni Viva Gospel Voices e i Just For Rock. Sabato 24 agosto vado Ligure Giardini a Mare. Ieri sera le due band si sono viste. Guardate un po' quello che è successo. 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 Ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti.